Ora che sappiamo come si crea una campagna pubblicitaria su Amazon, iniziamo a parlare di come interpretare i risultati. Per prima cosa però dobbiamo ambientarci nella dashboard e capire come leggerla. La dashboard pubblicitaria di Amazon è la prima cosa che visualizziamo allora quando accediamo al nostro account pubblicitario. Ricordiamoci sempre che operando su Amazon abbiamo la possibilità di avere diversi account pubblicitari, uno per ciascun paese e quindi è possibile avere anche diversi dashboard pubblicitari. Selezioniamo l'Italia e vediamo la mia console pubblicitaria dell'Italia. Iniziamo a capire come si legge questa dashboard. Nella parte superiore vediamo un grafico che indica l'andamento delle vendite nel periodo di tempo selezionato. La linea arancione è la spesa, mentre la linea azzurra è l'acos, un dato di cui parleremo in seguito. Questo intervallo di tempo si può anche personalizzare selezionando da questo pulsante in basso e quindi abbiamo la possibilità di scegliere tutto il periodo dall'inizio oppure anche un periodo più ristretto, gli ultimi sette giorni o gli ultimi trenta giorni. I dati appariranno quindi modificati a seconda dell'intervallo di tempo che selezioneremo. Nei campi in alto abbiamo i dati di riepilogo della spesa totale, ovvero quanto abbiamo speso in advertising nel periodo indicato, le vendite, in questo caso è un fatturato di vendita nel periodo esaminato, l'acos, di cui parleremo tra poco, le impressioni generate, ossia quante volte sono comparsi i nostri annunci pubblicitari in questo periodo e gli ordini, quanti ordini sono stati generati dalla pubblicità. Andando in basso abbiamo una tabella che contiene tutti i dati di tutte le campagne nel periodo preso in esame. Partiamo da sinistra verso destra. Da questi interruttori è possibile attivare o disattivare ciascuna campagna, quindi basta selezionarlo per disattivare una campagna o riselezionarlo per riattivarla. Il nome della campagna, lo stato, se attiva o disattiva, è il tipo della campagna, che può essere sponsored products o sponsored brands. Abbiamo poi la data di inizio campagna e la data di scadenza. Se non abbiamo stabilito nessuna data di scadenza, come nel mio caso comparirà sempre nessuna data di scadenza, il budget giornaliero che abbiamo stabilito per ogni campagna pubblicitaria, la quantità di risultati che compaiono in cima alle ricerche, la spesa e quanto abbiamo speso ovviamente in pubblicità su questa campagna nel periodo preso in esame, quanti ordini ha generato la campagna, quante vendite inteso come fatturato di vendita e poi abbiamo l'acos. Ritornando ora alla dashboard, ci sono altri due o tre elementi che conviene subito fissare. Intanto da questo pulsante è possibile personalizzare le colonne, quindi è possibile aggiungere anche altri parametri rispetto a quelli che vediamo. Vedremo più avanti un tipo di personalizzazione ottimale. Poi, quando clicchiamo su una particolare campagna pubblicitaria, possiamo visualizzare i dati di dettaglio della stessa. Quindi abbiamo di nuovo il grafico che mostra la spesa e le vendite, l'andamento della spesa e delle vendite, però solo per quella campagna nel periodo considerato. Qui in basso abbiamo tutti gli annunci che sono nello stesso gruppo per questa campagna. Cliccando su impostazioni della campagna abbiamo tutti i parametri della campagna stessa che possiamo anche modificare, tra cui, oltre al nome, la data di inizio, la data di fine e soprattutto il budget giornaliero, ma anche la strategia di offerta. Possiamo cambiare tra offerte dinamiche solo a ribasso, offerte dinamiche a rialzo a ribasso, offerta fissa e poi possiamo modificare la strategia di offerta per fare in modo di offrire qualcosa in più allor quando i prodotti compaiono in prima pagina o nelle pagine prodotto. Questa cosa si può fare anche tornando indietro nella scheda placement. Qui, infatti, abbiamo le statistiche per ogni tipo di posizionamento. Cioè, qui vediamo quante volte gli annunci sono comparsi nei prodotti più ricercati, cioè in prima pagina, quanti click hanno ricevuto in quella posizione, il tasto di click, la spesa, il CPC, gli ordini e l'ACOS. Quante volte sono comparsi nelle pagine prodotto, quindi quante impression, quanti click hanno ricevuto e quante vendite hanno prodotto in quella posizione. Così, ad esempio, possiamo vedere, come in questo caso, che la posizione dei prodotti più ricercati produce un ACOS più basso, quindi è migliore rispetto a quella delle pagine prodotto. E in forza di quest'analisi possiamo decidere, come ho fatto io, di offrire fino all'80% in più, ma avrei potuto alzare anche di più questa percentuale per le offerte che si trovano in questa posizione, e in meno, invece, per quelle che si trovano nelle pagine di prodotto. Proprio perché penso che, in questo caso specifico, la prima pagina sia una posizione migliore. Andando ancora indietro sui gruppi di annunci, possiamo avere delle informazioni ulteriori. Ad esempio, posso cliccare sui gruppi di annunci e poi su Targeting e vedere tutte le parole chiave collegate a questa particolare campagna e le performance di ciascuna di esse. Posso quindi decidere di disattivarle o di metterle in pausa, posso variare l'offerta e posso fare tante altre cose, come vedremo nella prossima lezione. Un'altra funzione molto utile è quella dei termini di ricerca. Questi non sono i termini che io ho inserito nella campagna, ma sono i termini di ricerca che sono stati utilizzati dagli utenti che poi hanno cliccato sul mio annuncio. Quindi Amazon ne ha tenuto traccia e sono utilissimi. È veramente orocolato questo, perché si possono inserire nella campagna, perché sono delle ricerche che hanno portato al nostro prodotto. Per cui, cliccando su azioni, si può aggiungere questo termine come parola chiave nella campagna pubblicitaria. Ad esempio, qui c'è questo termine che non avevo inserito nella mia campagna pubblicitaria, ma che è comparso diverse volte, ha portato 16 clic e addirittura tre ordini. Quindi è sicuramente un termine da inserire nella campagna, aggiungere come parola chiave. Per terminare questa carrellata abbiamo il targeting negativo, che sono i termini che in fase di creazione campagna ho inserito come targeting negativo. Volendo potrei da qui aggiungerne anche altre. E la scheda cronologia che mostra tutte le azioni che ho effettuato di modifica della campagna, che ho effettuato dal momento in cui ho avviato la campagna fino ad oggi. Grazie. Grazie a tutti.